Buonasera, siamo qui con Puglio Germano che oggi è ritornato in campo quello che volevamo fosse e con questa nuova barba che fa molto Sergio Mugnitz dall'ultima spiaggia dell'Isola dei Famoti possiamo dire che questa settimana da Eremita sull'ultima spiaggia è servita e quindi, non so, dicci qualche cosa sulla partita di oggi? Beh, a di là di un inciso sulle battutine di Carla in realtà penso di aver fatto un passo indietro personalmente rispetto alla partita di Marcellisi dove ero molto più soddisfatto di questa partita dura e sia io che Vincenzino quando è entrato ci siamo comportati bene per quanto riguarda la prestazione di oggi, sapevamo che era da combattere, speravamo di portare a casa i tre punti ne abbiamo portati due che sono importanti, però speriamo che anche le altre che combattono per salire perderanno punti perché qui non sarà facile per nessuno Come mi sentite adesso che avete lasciato il vostro primo blu un punto agli avversari? E' vero, vabbè, sapevamo che continuare a punteggio pieno era sempre più un'impresa purtroppo l'abbiamo persa la settima, speravamo di arrivare a Natale a punteggio pieno ma in realtà la battaglia è lunga, si perderanno anche questi punti l'importante è essere sempre uniti e combattere per l'obiettivo finale Certo, comunque è un'altra vittoria che portiamo a casa e siamo contenti Grazie e complimenti per la partita Grazie a tutti